Ciao bimbi, ciao bimbe, lo riconoscete questo libro? È il mistero delle fiabe divorate. Sì, proprio il libro che quest'anno abbiamo deciso di portare alla festa del libro. E ora ve lo leggerò per voi, ma anche per i vostri genitori, i vostri nonni, i vostri fratelli. Così, quando faremo la festa del libro, anche loro già lo conosceranno. Al ladro, al ladro, gridò la fanciulla dall'aguglia, ha rubato la mia mela. Improvvisamente sette nanetti apparvero dietro all'ombra che fuggiva. E dietro ai sette nanetti si accodò una vecchia stregazzoppa, un uomo vestito da cacciatore, uno specchio parlante. E tutti correvano dietro all'ombra che aveva rubato la mela alla fanciulla. Ma ecco che un giovane principe superò tutti quanti al galoppo. Ma, accidenti, per un soffio il principe mancò il ladro. Oh, la mia mela, rivolgo la mia mela, gridò di nuovo la fanciulla dall'aguglia del castello. A quel punto Giovanna si svegliò. Si alzò dal letto, infilò le pantofole a casaccio e corse nella direzione da cui venivano le urla. E fu proprio lì, davanti alla sua libreria, che Giovanna sentì la fanciulla gridare ancora. Senza la mela oggi non mangerò e mai un giorno mi sposerò. Giovanna afferrò il libro che aveva parlato. Lui alprimò nel mezzo e la vide. Vide la fanciulla dall'aguglia del castello che piangeva per la sua mela trafugata. Il principe a cavallo, lo specchio, il cacciatore, la stregazzoppa e i sette nanetti. E poi un'ombra che fuggiva e scappava via veloce. Finché Giovanna non arrivò all'ultima pagina, in cui vide soltanto una manciata di semi. Intanto, anche da altri libri, si iniziarono a sentire grida disperate. Giacomo cercava i suoi tre fagioli magici. Cenerentola era rimasta a piedi senza la zucca. Come farà ora ad andare al ballo? Charlie si inghiozzava vicino a un mucchietto di cioccolato. Non era rimasto nulla della sua meravigliosa fabbrica di cioccolato. Cappuccetto Rosso incolpava il lupo per le frittelle trafugate. Qualcuno le aveva divorato l'intero cestino che doveva portare alla nonna. Ad Alice, nel paese delle meraviglie, avevano rubato tutto il tè. E nella casa dei tre orsi, Riccioli d'oro non trovò nemmeno una goccia di zuppa. La colpa era sempre dello stesso ladro mangione, un ladro grasso e grosso. Così se lo immaginava Giovanna, che con l'agilità di un ghepardo si intrufolava dentro i libri di fiabe per riempirsi la pancia di ogni ben di Dio. E il ladro mangione quella notte aveva ancora fame. Una fame fiabesca! Una fame così incredibile! Che si mangiò l'intera casa di marzapane della strega di Ansel e Gretel. Una casetta di marzapane, con le porte di cioccolato, le finestre di zucchero filato, le calecca appese sul tetto e un bignella crema per caminetto, congelati fioriti ai balconi e ghiaccioli stesi fuori ad asciugare. Beeeh! Fece il ladro prima di fuggire. L'unica cosa che aveva lasciato? Il gabinetto! Si vede che non gradiva. Giovanna era così seccata per i furti avvenuti nelle sue fiabe che adesso fissava sospettosa l'unico libro rimasto in piedi sugli scaffali della libreria. Era un libro grosso e grasso. Dovette usare tutte le sue forze per tirarlo giù, aprirlo e... Niente, nel librone nessun cibo era stato toccato. Anzi, era pieno di pietanze succulenti. Era il libro del gigante Pantagruel. Giovanna girò con fatica una pagina dopo l'altra e proprio quando stava per chiudere il libro con un rumoroso boato lo vide. Giovanna vide il gigante Pantagruel rosicchiare una mela rossa, divorare un paniere di frittelle, addentare una zucca, succhiare la zuppa di fagioli, tracannare tazzine e tazzine di tè. Mangiò tutte queste cose, vedete? E vide il gigante Pantagruel sbranare una fabbrica, un'intera fabbrica di cioccolato. Adesso basta, eh? Esclamò Giovanna. Adesso prendo la mia bacchetta magica e ti metterai subito a dieta. Toc! Pensò in furiata. Toc! E poi ti intrappolerai nelle pagine del mio dizionario. E se non la smetti di mangiare ti faccio scomparire per sempre. Ma, come per magia, Giovanna si ricordò le parole della mamma. Le bacchette magiche esistono solo nelle fiabe. Tu piuttosto, usa il cervello. E fu esattamente quello che fece. Si caricò sulle spalle il libro grasso e grosso di Pantagruel. Si incamina in cucina e, lanciando uno sguardo furbo alla credenza, presa ad arrampicarsi lassù per i ripiani. Finché non arrivò sana e salva alla vetta, il ripiano dei ricettari della mamma. Qui avrai pane per i tuoi denti, disse Giovanna, liberandosi del ladro mangione, felice e contenta. Giovanna mise il libro tra quelli della mamma, così Pantagruel avrebbe trovato cibo per i suoi denti. Tante ricette da cucinare e da mangiare, senza andare a rovinare i libri della povera Giovanna. E ora Pantagruel ci sembra abbastanza felice e contento in mezzo a tutti questi cibi che può cucinare e mangiare.